ciao ragazzi bentornati sul canale questa è una video recensione di una moto leggendaria ha veramente l'aura di leggenda intorno a sé ci hanno fatto il camel trophy ci hanno fatto la parigi dakar è una moto che ancora adesso è famosissima viene apprezzata moto costruita negli anni 80 ma che va ancora benissimo ed è una moto davvero davvero eccezionale sto parlando di questa moto qui la fantastica onda dominator adesso ve ne parlerò nel dettaglio vi spiegherò tutte le sue caratteristiche dei prezzi dell'usato in cosa eccelle e in cosa non eccelle iniziamo allora ragazzi prima di tutto un po di storia di questa moto la produzione inizia nel 1988 quindi un anno dopo la produzione la messa in produzione della onda transalpa che invece era nell'87 pensate onda butta fuori il transalpa nell'87 e poi il dominator nell'88 pazzesco la produzione è di tre serie di dominator il motore è sostanzialmente invariato è un monocilindrico da 644 centimetri cubici non vi fate ingannare dal doppio scarico è un monocilindrico il doppio scarico c'è solo perché è più bello è una ragione estetica viene prodotta in tre serie la prima serie fondamentalmente il sellino un po più corto è un serbatoio da 13 litri e le frecce che sporgono all'esterno la seconda serie che è questa qui ha la sella più lunga e il serbatoio cresce da 13 litri a 16 litri il resto rimane cambiano le grafiche nelle varie serie però il motore la ciclistica rimane uguale la terza serie invece viene poi prodotta nel 1994 in italia allo stabilimento onda di attessa e fanno alcune piccole variazioni sul telaio per renderla un po più stradale l'unica differenza è sull'impianto frenante chiaramente che quelle costruite in giappone la prima e la seconda serie l'impianto frenante è nissin e invece sulla serie prodotta in italia chiaramente l'impianto frenante è brembo alcuni dati tecnici allora la prima serie curiosità aveva oltre all'avviamento elettrico il kickstarter cioè quindi tu non rimanevi mai a piedi se si staccava la batteria se si scaricava tu comunque partivi con la pedivella cosa che era richiesta dal pubblico di allora perché l'avviamento a pedale era un po vista come una cosa da macino soprattutto su moto che sono studiate per l'off road altra caratteristica di questa moto particolare è che naturalmente il raffreddamento è completamente ad aria quindi quello che non c'è non si rompe carburatori 4 valvole per cilindro quindi un motore davvero davvero semplice non non c'è non ci sono molti ammenicoli che ne permettono la rottura le frecce come vi ho detto sono integrate in questa serie qui nella serie giapponese della seconda serie qualche caratteristica tecnica il peso è 160 kg in ordine di marcia quindi non pesantissima la moto a poi altri accorgimenti proprio molto particolari e tipici della attenzione che onda aveva su queste moto per esempio il paradisco qui davanti è di serie il paramotore di serie invece sul transalpe se vi ricordate sulla recensione transalpe l'ho messo in alluminio ma di serie era di plastica dura poi c'è il porta oggetti qui sotto proprio comodissimo con gli attrezzi originali sono un sacco di piccole chicche molto particolari ve ne faccio vedere una nello specifico ecco qui secondo me si vede l'attenzione al dettaglio un costruttore a meno è capitato di cadere col transalpe proprio da questa parte si era rotto l'interruttore del cavalletto sapete che l'interruttore del cavalletto è questo contatto qui che non fa partire la moto appena la mettete in marcia se il cavalletto è appoggiato appunto per per evitare danni a voi soprattutto e alla moto quindi la moto parte soltanto se è in folle no come sempre però chiaramente se la moto cade a me era caduto il transalpe si era rovinato qui il contatto e la moto non partiva più ogni volta che che provava a metterla in marcia si era rotto il contatto e gli sembrava che avesse il cavalletto ancora appoggiato qui c'è un pezzo di ferro che protegge il contatto quindi anche se la moto cade da questa parte questo pezzo di ferro qui protegge completamente il contatto è un dettaglio minuscola però questo pezzo di ferro prodotto in serie aumenta di molti costi di produzione ma in caso in questo caso qui alla onda hanno deciso appunto di mettercelo qui abbiamo il quadro comandi veramente basico conta chilometri conta giri reset dei chilometri indicatore della folle dei fari alti chiaramente delle frecce e qui questa lucina minuscola ti dice appunto se hai lasciato il cavalletto appoggiato quindi non te lo dimentichi perché rimane accesa finché non lo tiri dentro la chiave ovviamente non ha l'immobilizer ed è quanto di più semplice si possa fare e quindi super replicabile allora chi è appassionato di avventura non può non conoscere il camel trophy o almeno averne sentito parlare era una competizione per auto fuori strada sponsorizzata dal noto marco di sigarette camel che si è svolta dal 1980 al 2000 in varie location intorno al mondo in sud america in africa in sud est asiatico nel 1987 beppe gualini si inventa una edizione del camel trophy dedicata alle motociclette e invita onda a prenderne parte con delle onda dominator con una livrea bellissima si trovano sono rarissime quelle originali tutta gialla proprio per richiamare i colori del camel trophy e ne fanno tre edizioni di queste di queste camel dedicata alle motociclette seguitissima bellissima le moto erano tutte di serie appunto perché lo spirito era vendere questa moto quindi bisognava far vedere che una moto tutta di serie riusciva a fare il camel trophy un'edizione durissima proprio un rally che era famoso per essere duro ho letto da qualche parte spero che qualcuno mi possa confermare magari scrivetemelo nei commenti che poi interruppero le edizioni del camel trophy con le moto perché riscuotevano così tanto successo che offuscavano il camel trophy dedicato al fuoristrada che era proprio quello principale per cui era nato se avete visto dei vecchi filmati poi l'elemento più caratteristico del camel trophy era l'utilizzo delle land rover pesantemente modificate e tutte ridipinte con la livrea tipica del camel trophy proprio quella livrea un po marroncina gialla famosissima la moto poi per accentuare proprio lo spirito di avventura partecipò anche alla parigi dakara nel 1993 è una moto da avventura è utilizzata tutt'oggi a tantissimi avventurieri in giro per il mondo c'è gente che c'è stata in siria in africa dovunque veramente e nell'adventuring sicuramente il dominator eccelle dov'è che non eccelle chiaramente nelle lunghe trasferte autostradali la protezione aerodinamica è bassissima se siete un po alti prendete praticamente tutta l'aria in faccia chiaramente essendo una moto per il fuoristrada questa è una caratteristica che non è uno svantaggio non è una moto appunto per fare grosse trasferte in autostrada questo non vuol dire che non si possano fare essendo un monocilindrico un altro suo piccolo difetto sono le vibrazioni bisogna essere abituati chiaro che guidando una moto moderna semplicemente guidando il transalpe qui le vibrazioni il transalpe non è una moto che proprio non vibri qui però le vibrazioni si sentono tanto se fai un viaggio lungo dopo c'è gente che si è fatta decine di migliaia di chilometri e le vibrazioni gli danno fastidio però è un fattore da tenere in considerazione sicuramente quando si acquista una moto così comodità sulla sella beh la sella è abbastanza stretta perché è una moto da enduro anche il passeggero c'è spazio ma non è che sia proprio comodissimo è bella stretta quindi si riesce a gestirla bene in situazioni off road da quello che ho sentito guidandola questa qui se gli metti delle ruote belle artigliate ha proprio una ripresa che lavora dai 5000 ai 7000 giri proprio ti tira fuori secondo me da qualsiasi situazione se uno si vuol divertire non spendere troppo ma poi fra poco parliamo del prezzo questa è una moto secondo me che che dà tantissime soddisfazioni e consuma veramente poco si diciamo che i consumi si attesta intorno ai 20 chilometri al litro un suo piccolo difetto è che mangia un po d'olio è quello è un po comune a tutti i dominator una soluzione secondo me geniale adottata da onda per il raffreddamento dell'olio è che l'olio passa attraverso il telaio quindi il tappo dell'olio proprio qui sotto 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 lo sterzo sviti qui il tappo e controlli l'olio meglio di così naturalmente qui non abbiamo la spia della benzina c'è solo un pomellino della riserva quindi quando la benzina qui finisce si gira e si va riserva come autonomia siamo serbatoio normale 200 chilometri più un'altra cinquantina di chilometri con la riserva costi parliamo dei costi devo dire che io l'ho valutata per molto tempo il dominator e poi non l'ho presa appunto perché volevo una moto adatta a fare viaggi soprattutto e ogni tanto andare in fuoristrada e quindi appunto per le vibrazioni e la ridotta capacità di carico del dominator e poi alla scarsa comodità e lunghi viaggi ho preferito prendere il transalte è una moto adattissima per chi si vuole divertire in fuoristrada e non spendere tantissimo c'è da dire che adesso hanno avuto un salto enorme sulle quotazioni dominator quindi un dominator ben messo con tutte le sue cose a posto quindi con il trittico cambiato le gomme a posto i tubi dei freni cambiati l'olio cambiato il mono che è stato revisionato cambiato lo trovate tranquillamente sui 3.000 euro e se considerate che magari sono moto degli anni 80 è un prezzo veramente elevato perché magari aggiungendo 2.000 barra 3.000 euro in più comprate una moto di 30 anni dopo con meno chilometri quindi il mio consiglio è se volete proprio un dominator dovete essere appassionati chiaramente di moto degli anni 80 e delle due invece di comprarne una 3.000 tutto a posto che poi a posto ve lo dice il proprietario non sapete effettivamente tranne le robe visibili vedere cosa ha fatto magari prenderne uno che costa un po meno e farci poi lavori voi per esempio questo qui che me l'ha prestato il mio amico non si sanno bene i chilometri si sono scritti 30.000 chilometri ma poi il contachilometri è stato staccato per un po' di tempo quindi non si sa di preciso quanto abbia percorso il mono era da cambiare le gomme erano da cambiare la trasmissione la catena di trasmissione dava qualche problema la batteria la centrale insomma un po' di robe alla fine anche i tubi dei freni l'olio freni che l'hanno portato a altri 1.000 euro di spesa tra tutto quindi 1.500-2.500 è quello che appunto paghi un dominator messo a posto quindi ecco il mio consiglio è appunto questo se vi piace proprio come moto fantastica ci potete far veramente di tutto ottima come prima moto secondo me fantastico come seconda moto se fate degli eventi che non volete aver troppa paura di rovinare la moto insomma di non cadere e starli preoccupati questa è ottima è indistruttibile va sempre e la manutenzione è veramente bassa il cambio olio qui si fa ogni 6.000 chilometri quindi diciamo il tagliando il cambio del filtro dell'olio è un po' più frequente rispetto chiaramente ai bicilindrici affidabilità di questo motore chiaramente altissima testata da motociclismo oltre i 100.000 chilometri ho sentito di gente che ce l'ha fatto ben oltre i 100.000 chilometri chiaramente come tutta la progettazione c'è molta cura nasce già col freno disco posteriore quando invece il Transat l'anno prima nell'87 avevano messo il freno a tamburo quindi andate tranquilli insomma come piccola nota personale questa moto qui viene utilizzata da tantissime persone per smembrarla e farci caffè racer che per inciso caffè racer vuol dire proprio moto da bar cioè quando in Inghilterra c'erano queste moto scomodissime che noi diciamo proprio una moto da bar ci vai solo al bar lì le chiamavano caffè racer cioè motociclisti da bar proprio quello vuol dire caffè racer moto da bar e tantissima gente le smembra completamente per farci le caffè racer cioè tolgono tutto tengono solo il motore l'impianto frenante e le rimodificano tutte dei gustibus non disputando ma a me il Dominator piace molto ma molto di più lasciato tutto originale ecco ragazzi siamo arrivati alla fine di questa video recensione sul Dominator se avete avuto un Dominator ci avete fatto di viaggio se ancora ce l'avete sono curioso di sentire le vostre storie su questa fantastica moto cliccate like se vi è piaciuto il video così più persone lo possono vedere e farsi un'idea magari dell'acquisto o no di questa motocicletta iscrivetevi al canale guardate gli altri contenuti se vi piacciono noi ci vediamo al prossimo video o di persona il primo ottobre per il giro ciao ragazzi che sound po 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 mitico Domi ma una ripresa brutale proprio adesso proviamo anche un mini 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 offroad ma proprio minuscolo è giusto una strada bianca vabbè stupendo si controlla benissimo